Oggi presentiamo questo libro che ho scritto insieme a quattro mani con Saldi Giorgi che mi ha dato veramente un grande contributo per riuscire in questa mia aspirazione che era quello di lasciare un po' la storia della nostra Polizia Municipale da quando è iniziata fino ad oggi, fino ai giorni nostri. È stata una bella esperienza poter lasciare qualcosa, una traccia di quello che noi facciamo, di quello che noi siamo e di quello che noi siamo, come siamo cresciuti dall'inizio fino ad oggi perché i tempi cambiano e la Polizia Municipale sia adeguata a secondo le esigenze. Cosa ho trovato? Ho trovato una bella realtà, ho trovato del personale eccezionale che ho portato avanti. Lascio un comando che è il fiore all'occhiello di tutta l'amministrazione. Io tra qualche giorno, come voi sapete, lascerò il comando per raggiunti i limiti di età. Lascio questa città che amo, lascio una città a cui ho dato il massimo di quello che era umanamente possibile fare. Ho dato il mio contributo alla città, ai miei ragazzi, come io li chiamo. Abbiamo lavorato bene, abbiamo affrontato tanti problemi, tante difficoltà. Siamo riusciti ad andare avanti. Auguro alla città e al mio personale di continuare su questa strada da me tracciata che sono sicuro che loro riusciranno ad andare avanti. Oggi si parlerà di una cosa molto importante. La storia, il libro della storia della Polizia Municipale di Mazzara del Vallo. Partiamo dal 1860 fino ai giorni nostri. Oggi i vigili urbani sono quelli che danno quella sicurezza al cittadino e quelli della sala operativa che una volta non c'era, e quella dell'elicottero e quella del soccorso. Per cui è una storia che era giusto che la città di Mazzara avesse e che la Polizia di Mazzara del Vallo principalmente avesse. Abbiamo lavorato tantissimo a questo progetto, 14 mesi di lavoro. E credo che alla fine sia avvenuto veramente un bellissimo lavoro. Spero che questa fonte possa servire in futuro alle nuove generazioni di vigili perché è una storia che appartiene alla città e una storia che appartiene a tutti. Ci siamo riusciti, spero. Una piccola storia che c'è nel libro interessante? Principalmente la storia della città, quando nasce una città, come nasce una città e come sono nate i vigili. Quindi la città nasce con i vigili, i vigili nasce con la città. Mazzara del Vallo ha una storia molto bella e importante perché è circondata da tante torri che pochi forse conoscono e che persino la regina Giovanna l'ha riconosciuta come una città originale. Penso che Mazzara del Vallo ne vada orgogliosa. E poi principalmente Mazzara del Vallo ha il primo santo mazzarese che è il San Vito, il protettore della città. Mi pareva giusto evidenziare questo aspetto. Ecco, per i bambini, per i ragazzi delle scuole che magari oggi quella forma di educazione civica che facevamo noi un tempo non c'è tempo di farle. Abbiamo cercato di raccontarla attraverso anche questo libro storico della Polizia Municipale di Mazzara del Vallo che non è soltanto la polizia delle multe ma è la polizia quella che ci tutela da ogni tipo di agguato che si presenta ogni dietro l'angolo. Questo è quello che ho pensato di fare.